Musica Buonasera rieccoci con speciale calcio mercato come di consueto l'apertura con il Napoli, Salvatore Cagliazza in collegamento Buonasera Salvatore E a tutti i due e tre spettatori Salvatore ci sono novità dell'ultima ora riferite a Vittoros Simen le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis Eh sì, non si muove da Napoli perché i contratti si rispettano e ha altri due anni quindi è scadenza giugno 2025 il timore di tutti è quello che poi alla fine è decidere sia il calciatore perché va bene il contratto altrimenti Carmine devi valutare l'ipotesi di portarlo a scadenza e questo sarebbe un bel problema perché già l'anno prossimo il calciatore si potrebbe si potrebbe organizzare con un altro club per poi liberarsi a gennaio 2025 a parametro zero è un'ipotesi da tenere conto eventualmente poi non so se il presidente De Laurentiis rinunci a 150, 120, 130 milioni pur di tenersi il calciatore a quanto pare anche il nono incontro nono, ormai è una sagra il nono incontro tra Calenda e il presidente De Laurentiis non ha portato alla fumata bianca bensì a quanto sento alla fumata nera per il momento poi magari c'è tempo per potersi rivedere ma intanto se il presidente dice che Osimè ne resta allora resta un out-out quindi da queste dichiarazioni novità su Osimè c'è anche la foto social con Cajus l'ultimo acquisto l'attesa del test con l'Apollon Limassol intanto la foto sì, intanto Osimè diciamo che oggi c'era anche Cajus è tornato ad allenarsi con il gruppo domani c'è questa amichevole contro l'Apollon Limassol quadra cipriota sarà l'ultimo test in vista poi dell'esordio in campionato con il Frosinone il 19 agosto allo Stirpe non si sa se Osimè domani giocherà o meno se García lo uscirà magari alla fine per fargli trovare un altro po' di gamba visto che ha saltato gli ultimi incontri ci sarà invece Kvara che ha recuperato definitivamente così come Rachmani una sorta, una bozza di formazione tipo si potrebbe anche mandare in campo Gabri Veiga ci sono novità anche in tal senso? Salvatore Napoli vorrebbe prenderlo a ridosso dell'inizio del campionato e la clausola rescissoria potrebbe essere pagata anche in tre rate di solito non accade ma siccome dall'altra parte c'è come allenatore come manager Rafa Benitez che è molto amico del Napoli e del presidente qualcosa potrebbe cambiare naturalmente Napoli è deciso a prenderlo perché Zelischi ormai ha le ore contate in maglia azzurra dovrebbe domani giocare e poi magari tra qualche giorno potrebbero ufficializzare il suo passaggio alla squadra araba dell'Al-Illala Salvatore grazie alla prossima buon lavoro grazie a te alla prossima ringraziamo Salvatore Cagliazza passiamo alla Salernitana è ufficiale la cessione di Bonazzoli i dettagli di mercato con Filippo Notari Filippo a te buonasera si eccoci qui buonasera e bentrovati dalla redazione di Salerno è ufficiale la cessione da parte della Salernitana di Federico Bonazzoli il pistolero è un nuovo attaccante del Verona come già trapelato nella giornata di ieri le due società hanno trovato l'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto ed obbligo di riscatto a determinate condizioni la cifra pattuita per il riscatto si aggira intorno ai 3 milioni di euro dopo due stagioni con la Maglia Granata 54 partite e 12 gol messi a segno Bonazzoli dunque saluta la Salernitana e si è a casa al Verona dove ritroverà Milan Diuric suo compagno di reparto nella prima stagione alla Salernitana e con il quale ha avuto un rendimento straordinario ricordiamo i due furono decisivi con le loro reti per la miracolosa salvezza centrata dalla loro formazione allenata da mister Nicola dunque un'altra operazione in uscita per la Salernitana che però deve cercare ora di accelerare sul fronte delle entrate Paolo Sosa attende ancora la prima punta per sopperire all'assenza di Christopher Piontek De Santis sta sondando soprattutto il mercato estero per il momento i nomi sul taccuino del direttore sportivo sono quelli di Bruno Petkovic della Dinamo Zagabria però per arrivare all'attaccante che ha un passato anche in altre squadre italiane servono almeno 5 milioni di euro ancora più complicata invece la pista che porta a Miron Boadu perché il cartellino del calciatore è stimato sui 15 milioni di euro De Santis chiaramente sta provando a dialogare con le rispettive società per cercare anche una formula un po' come fatto lo scorso anno con Boulayet Dià quando il calciatore arrivò in prestito con diritto di riscatto e poi appunto il riscatto è stato effettuato nell'estate successiva l'impressione però che si ha è che possa alla fine arrivare un nome a sorpresa per l'attacco della Salernitana che nel frattempo tiene caldo caldissimo anche l'asse con la Juventus come noto Sosa ha fatto esplicitamente il nome di Miretti per il centrocampo la Juventus nell'operazione vuole inserire anche Facundo Gonzales difensore che non dispiace al direttore sportivo e anche all'allenatore si ragiona anche di Nicolussi Caviglia che potrebbe rappresentare un po' il ritorno anche se il calciatore dopo lo scarso rendimento ha avuto lo scorso anno con la maglia della Salernitana ha palesato qualche perplessità al trasferimento staremo a vedere l'impressione però che si arriverà al match di Coppa Italia in programma domenica senza grosse novità e senza grossi sussulti dunque Sosa dovrà fare di necessità virtù nel match contro la Ternana recupererà Mazzocchi che sta lavorando regolarmente con il gruppo l'esterno aveva accusato un risentimento ed è stato gestito potrebbe avere una scienza partita in corso tra l'altro anche Mazzocchi continua ad essere un uomo mercato della Salernitana gli estimatori non mancano e gli ultimi 15 giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del capitano della Salernitana dicevamo della partita in programma domenica alla Rechi contro la Ternana inizia a percepirsi l'entusiasmo anche in città 5.300 i biglietti venduti in poche ore 3.300 invece quelli polverizzati per la sfida d'esordio in campionato all'Olimpico di Roma anzi su questo versante ci sono state anche diverse polemiche perché la prevendita è partita un po' a sorpresa e in tanti sono rimasti spiazzati entusiasmo che si conferma anche per il numero degli abbonamenti 10.200 quelli venduti l'obiettivo è di arrivare almeno a quota 12.000 per l'inizio del campionato in tal senso a dare una spinta potrebbero essere proprio gli acquisti che fin qui non sono ancora stati messi a segno dalla salernitana entusiasmo si è respirato a pieni polmoni anche ieri sera a Ponte Cagnano Faiano dove è stato inaugurato un club dedicato a Memo Ochoa il portiere messicano ha preso parte alla cerimonia ideata da Alessandro Lamberti e Siro Amendola che ormai sono diventati celebri a Salerno con il nome di Ochoa Boys e allora ascoltiamoci proprio le dichiarazioni rilasciate dai due organizzatori ideatori del club dedicato a Memo Ochoa è veramente tanta gente non ce l'aspettavamo forse un po' emozionati lui come si è ben sapete siamo un po' postanti però alla fine l'emozione è bellissima è stata dura è stata dura lui come ben sapete Alessandro Siro e abbiamo fatto a Ponte Cagnano Vio Robo 80 questo club per Ochoa per la salernitana la squadra del nostro cuore e abbiamo fatto questo club per i ragazzi per i giovani quindi abbiamo messo playstation all'interno quindi faremo tornei dove si vengono gadget della salernitana magliette, cappellini abbiamo messo per vedere le partite calcette e quant'altro Ochoa oltre che è un grandissimo portiere quindi ci fa divertire fa vincere il parigiore della salernitana è comunque messicano è caliente è un po' come il carattere della tifoseria salernitana quindi ci fa divertire ci fa ci fa emozionare e ogni domenica è festa Emozione palesata anche da Ochoa che nel parlare alla tifoseria ha promesso impegno in attaccamento alla maglia per disputare un campionato importante il messicano è apparso anche colpito ed emozionato per diciamo l'entusiasmo manifestato dai tifosi della salernitana e ha donato una maglietta della nazionale messicana proprio agli organizzatori agli ideatori del club dedicato a Memo Ochoa dunque una bella notizia che lascia intendere anche l'entusiasmo che si respira a Salerno in vista dell'inizio della nuova stagione per il momento da Salerno è tutto vi restituisco la linea grazie Filippo per il Benevento il 20 agosto sarà test con il Giuliano le novità di mercato con Sonia Lantella Sonia a te ciao Carmine un saluto ai telespettatori sta per terminare il ritiro del Benevento domani alle 17.45 ci sarà l'amichevole a porte chiuse con la primavera a Roma non ci saranno le telecamere per la diretta di 8 Channel per questioni logistiche ma racconteremo attraverso attraverso il sito ottopagine.it la cronaca della partita poi il giorno seguente ci sarà una nuova amichevole con il Monterosi al Mancini Parcotel in quel caso appunto ci saranno le nostre telecamere per seguire l'evento e subito dopo Andrioletti darà il rompete le righe quindi si metterà la parola fine al ritiro nella capitale ma non alle amichevoli perché ce ne saranno altre due con il Giuliano e con il Picerno è stata definita la prima amichevole il 20 agosto presso la struttura del Giuliano ci sarà chiaramente anche la diretta di 8 Channel mentre l'altra amichevole è ancora da definire è stata la volontà di Andrioletti quella di dar seguito a questi test proprio perché vuole mettere in pratica quelli che sono stati dettami trasferiti nel ritiro romano in vista proprio del campionato ma a tener banco c'è anche il mercato al momento fermo ma non preoccupa il direttore tecnico Carli in realtà c'è la necessità di fare uscire alcuni calciatori prima di operare in entrata le questioni sono sempre le stesse Schiattarella e Letizia non rientrano nei piani probabilmente si andrà verso la risoluzione contrattuale perché è difficile trovare una sistemazione a questi calciatori che hanno ingaggi importanti Letizia parliamo di 450 mila euro per altri due anni per cui probabilmente si andrà verso un accordo tra le due parti società e calciatore e poi chiaramente c'è sempre la questione Viviani e a Campora i due calciatori sono stati molto chiari nel colloquio con il presidente Vigorito il lungo colloquio hanno manifestato la volontà di andare via Campora rientrava nei piani piaceva molto sia a Carli che a Andrioletti ma al centro c'è la volontà di far sì che faranno parte del progetto solo i calciatori realmente motivati e quindi per loro chiaramente non ci sarà il futuro nel Benevento su a Campora c'è il Pisa su Viviani c'è sempre il Cosenza però ecco queste due società di B hanno chiuso un accordo con i calciatori ma non hanno formulato la loro offerta al club di via Santa Colomba che ovviamente vuole monetizzare per a Campora sono stati chiesti 600 mila euro un calciatore che comunque è stato importante al di là insomma di quello che è accaduto nella passata stagione e non si può non parlare di rivoluzione in casa giallorossa perché se si considerano i fine prestito i calciatori a scadenza di contratto e quelli che dovranno andare via beh effettivamente ne dovrebbero restare solo uno al massimo due non contando Karic e il Kawakibi e Kutsuvias che merita un capitolo un capitolo a parte dovrebbe restare in prota perché rientra nei piani di Androletti piace vuole quell'esperienza e più equilibrio un giocatore che gli garantisce più equilibrio e Teio che avrebbe dichiarato a metà voler restare sempre se non dovessero esserci altre offerte che al momento non sono arrivate ecco sono i due calciatori che potrebbero rientrare nei piani anche Moncini ma chiaramente non faceva parte della passata stagione anche lui una retrocessione ma con la spalla l'attaccante aveva manifestato anche lui la volontà di andare via c'era il Modena ma poi effettivamente non ci sono state altre offerte concrete per cui ecco è considerato un calciatore che potrebbe fare la differenza in Serie C per cui la società giallorossa vorrebbe tenerselo stretto queste le uscite ma ci sono idee in entrata perché Carli si sta muovendo per individuare il terzino destro in alternativa del Kawakibi considerando l'uscita di Letizia è un perno centrale un vertice basso perché proprio a centro campo è il reparto più attenzionato perché manca manca l'esperienza tanti giovani interessanti come Talia e Alfieri ma chiaramente servirà l'esperienza considerando le partenze di Schiattarelli Viviani a Campora e il dubbio chiaramente Teglio e quindi in questo caso si necessita qualche inserimento in più di esperienza perché sui giovani bisognerà tracciare un bilancio proprio a fine ritiro ne sono partiti tanti Andreoletti voleva visionarli voleva attenzionarli così come il direttore Carli ma bisognerà tracciare una linea non tutti faranno parte della prima squadra probabilmente rientreranno Sorrentino l'attaccante come dicevamo prima Alfieri e Talia ma per gli altri insomma non dovrebbe esserci un posto un posto certo proprio perché c'è consapevolezza che in un campionato così importante come quello di C il girone C molto infuocato servirà anche grande esperienza abbiamo messo da parte il caso Cuzzupia su un capitolo che va affrontato a parte perché il giocatore rientrerebbe nei piani del Benevento ma ha manifestato la volontà di andare via attraverso il suo procuratore Giuffredi c'era stata anche una proposta da parte del Bari che però aveva chiesto un prestito a titolo gratuito ovviamente il Benevento si è opposto perché avendo fatto un investimento importante nella passata stagione è disposto a cederlo solo in caso appunto di un volendo appunto monetizzare per cui resta un capitolo aperto anche quello di Cuzzupia si andrà via solo in caso di offerte altrimenti resterà in giallorosso e l'ultima nota riguarda l'attacco perché dovesse restare anche Moncini probabilmente si andrà ugualmente sul mercato per prendere un'altra punta di esperienza essendoci soltanto Sorrentino che comunque è un giovane di qualità ma pur sempre un giovane ed è tutto da Benevento l'appuntamento è a domani Carmine ti restituisco la linea grazie Sonia in casa Avellino Tiago Cionec in gruppo dalle scorse ore sarà anche presentato annuncio del biennale firmato dal difensore brasiliano polacco occhio alla nuova fase di mercato aperta dal club bianco verde perché potrebbe nascere un nuovo percorso nella sessione estiva Lorenzo Moretti nelle immagini è seguito da diversi club nei mesi si registrava l'interesse del Palermo ora c'è quello del Pisa ma non solo in Serie B anche il Lecco guarda l'ex Inter e con la Triestina c'è l'ipotesi di uno scambio con l'inserimento di Salvatore Pezzella insomma più soluzioni e la riprova delle attenzioni tra torneo cadetto e terza serie per Moretti che nella passata stagione dopo un avvio non semplice si è ritagliato un ruolo importante di spicco nonostante il campionato dei lupi privo di sussulti è chiuso solo con la salvezza diretta poco per le ambizioni societarie nella passata stagione e che porta Lavellino alla ricerca di un deciso cambio di passo per la prossima Lavellino ha rivisto e non poco i vari reparti ma ci sono diversi elementi in uscita Zanandrea Aia nonostante l'operazione Rizzo in difesa per il centrocampo Casarini per l'attacco Canute e Plescia c'è la possibilità Messina per la punta palermitana novità che si registra nelle ultime ore per Casarini con il ritorno a casa c'è il Carpi sul centrocampista Casarini e Carpigiano e occhio quindi alla possibilità di cessione e di saluti da parte del mediano dopo una sola stagione il classe 89 aveva salutato l'Alessandria per accettare la sfida Avellino per il centrocampo concorrenza ma i lupi guardano a Marco Armellino reduce da due stagioni con il Modena non c'è solo l'Avellino ma anche la Triestina di Attilio Tesser Novità in entrata per il Sorrento Angelo Bonavolontà è un nuovo calciatore del club rosso-nero il Sorrento ha ufficializzato l'accordo con il classe 2000 acquistato a titolo definitivo dalla Torres Paganese Fidelisandria Torres ora il Sorrento per il centrocampista il club ha reso noto di aver essersi assicurato le prestazioni sportive di Angelo Bonavolontà fino al 30 giugno 2025 un biennale per il mediano come presentato dalla società nella nota ufficiale nato ad Avellino il 3 agosto 2000 arriva a titolo definitivo dalla Torres formazione con la quale ha collezionato 22 partite in C nella passata stagione tra i professionisti ha messo insieme già 92 presenze in campionato ed è tutto per Speciale Calciomercato ringrazio in regia Orlando Matarazzo restate con noi restate su 8 Channel Ciao Bli Addir Keys E тобي contiene l'un tu